E' stata portata a termine presso l'aeroporto militare di Grosseto, sede del quarto stormo, l'esercitazione SAR, Sir Cereschio, denominata Grifone 2010. Il coordinamento delle attività è stato gestito direttamente dal Comando Operativo delle Forze Aeree dell'Aeronautica Militare di Poggio Renatico. Un'operazione, questa Sir Cereschio, che ha interessato diverse forze armate, non soltanto italiane, un grosso coordinamento internazionale. Grifone 2010 è stata una grossa esercitazione di ricerca e soccorso aereo, coordinata dall'Aeronautica Militare, a cui hanno partecipato sia l'Aeronautica Militare in primis, ma anche altri corpi e forze armate dello Stato italiano, ma nonché anche stranieri francesi, spagnoli e maltesi. Nelle intense giornate di attività sono state effettuate oltre 50 ore di volo e trasportati circa 130 soccorritori, suddivisi in squadre di ricerca terrestri ed unità cinofile. Questa è un'occasione unica per metterci a confronto e soprattutto per mettere a fattore comune le esperienze maturate dalle forze armate e da tutti i corpi dell'amministrazione dello Stato. È fondamentale che questo coordinamento ci sia, ci sia ai massimi livelli e per poter arrivare in caso reale ad agire e operare con la massima efficienza bisogna addestrarsi. L'elicottero è il mezzo per andare a recuperare, in questo caso personale navigante, che potrebbe essere ovunque. Quindi sicuramente è il mezzo più flessibile, veloce e che ha anche la maggiore versatilità. Possiamo definire questa esercitazione un successo? Un assoluto successo. Io posso solo augurarmi che ce ne siano anche molte altre.